Erano due anni e mezzo che i volontari dell'Avo non mettevano piede a casa Morando. Le restrizioni dell'emergenza sanitaria e la prudenza avevano interrotto un servizio apprezzato soprattutto dagli ospiti. Sì, si gioca, poi giocavo a carte, facciamo belle partite, anche abbastanza tra giocatori. Sì, no, di fatti, ed è simpatico perché ognuno dice la sua, poi sono persone, anche lui è simpaticissimo. Come si trova con i volontari dell'Avo? Ma questo molto bene, molto bene, siete proprio l'ideale. Casa Morando è la prima struttura del Tiguglio orientale in cui i volontari sono tornati. Presto potrebbe iniziare anche la residenza a Niazzurri Castagnola. Prima della pandemia prestavano servizio anche a Torriglia, sempre a Chiavari, all'ospedale di Lavagna, all'ospedale di Sestri Levante e alle residenze Due Palme di Sestri. In vista di una ripresa anche in altri posti, l'Avo sta cercando nuovi volontari. Quelli che venivano alle case di riposo si sono trovati subito a loro agio. Chiaramente qualcuno che aveva fatto servizio solo presso gli ospedali è diverso. Qua invece devi parlare con tutti, perché si vede che hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di sfogarsi, hanno bisogno di parlare, di giocare, di scherzare, di ridere. Io sono fortunata perché io con le persone anziane mi sono sempre trovata bene, anche per quello, avendo già avuto esperienza in famiglia con genitori o nonni. Quindi tante volte hanno voglia di raccontarti della loro storia, della loro famiglia e certe volte basta anche quello, ascoltarli e farli parlare. A Casa Morando sono presenti tutti i giorni con un volontario da lunedì al giovedì. Al venerdì ci sono due volontari. In questi momenti si capiscono anche quelli che sono i valori delle cose perdute. Quindi il ritorno dell'Avo, tra l'altro a tempo pieno, per solo cinque giorni a settimana, rappresenta per noi un momento di grande gioia, di grande soddisfazione. Beh, è importantissimo, è importantissimo perché danno allegria e soprattutto l'inclusione. Perché io, Brontolo sempre, lo urlo al mondo che l'inclusione è fondamentale, il vivere in società. E loro ci danno tanto una mano e soprattutto non farli sentire anziani e tanto meno malati. Grazie. Grazie.